torna per la seconda volta in questa stagione sul nostro palcoscenico un ormai amico di teatro sofia un drammaturgo di primo piano un attore sorprendente sto parlando di giuseppe manfridi questa volta con uno spettacolo narrazione che debuttò nel 2009 al teatro argentina ottenendo un formidabile successo dal 17 al 19 maggio l'uomo che volò oltre se stesso di e con giuseppe manfridi regia di claudio boccacini installazione scenica a cura di antonella rebecchi si racconta di un uomo determinato a guardare la propria vita dal di fuori e per questo decide di abbandonare la casa di famiglia e di andare ad alloggiare in una pensione che si trova proprio di fronte a casa sua lì rimarrà per ben 20 anni fino a quando deciderà di tornare dalla moglie come se nulla fosse successo questo è l'inizio del viaggio un viaggio che con un salto sorprendente ci porterà al racconto delle olimpiadi messicane del 68 e di una prodigiosa impresa sportiva ma anche di una tragedia dei nostri tempi da molti dimenticata e da troppo pochi raccontata e allora vi aspettiamo dal 17 al 19 maggio a Teatro Sofia con l'uomo che volò oltre se stesso e dopo lo spettacolo non potrà mancare come sempre il nostro magnifico aperitivo e viva il teatro a teatro a teatro a teatro a teatro a teatro a teatro Grazie a tutti.